domani sera alle 21 appuntamento allo stand florio per un bel concerto sì sono finalmente tornata a casa in sicilia e quindi ci sono un po di eventi in giro il primo sarà appunto domani sera a palermo quindi nella mia città un concerto tanto atteso perché acustico quindi in una dimensione intima dove posso sbizzarrirmi a fare le canzoni del mio disco in uscita che stiamo appunto terminando è un concerto che un po mi vede a ritorno diciamo al passato perché sarò col mio compagno artistico di sempre umberto porcaro la chitarra io ovviamente con il mio strumento con l'auto arp le percussioni e quant'altro un posto splendido perché parliamo dello stand florio e quindi anche un posto come dire riqualificato nella nostra città domani domenica 30 giugno alle ore 21 quindi vi aspetto tutti e poi ci saranno altri appuntamenti come il frazzano folk festival è il primo di agosto e altri ancora per cui seguitemi insomma nella pagina e spero di riabbracciarvi tutti quanti a casa ecco no 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 Grazie a tutti